Timeline, Marco Carrara e la finta Fagnani, Valentina Barbieri, il video spopola sui social Valentina Barbieri imita Francesca Fagnani nella prima puntata di Timeline E' ripartito ieri, 8 settembre 2024, Timeline, il programma del mattino di Rai 3 condotto da Marco Carrara, che fa compagnia ai telespettatori tutte le domeniche alle 10,45 Trattasi di una trasmissione sull'approfondimento dedicato ai social media, nella quale il giornalista, da anni presente quotidianamente su Rai 3 essendo anche nel casto fisso di Agora, si occupa di ciò che è successo in rete negli ultimi sette giorni E nella prima puntata di questa nuova edizione Marco Carrara ha ospitato la comica imitatrice Valentina Barbieri che, tra le altre cose, nel corso dell'intervista si è calata nei panni di un'inedita Francesca Fagnani, inscenando Belve, l'ormai popolarissimo programma che la Fagnani conduce in prima serata su Rai 2 Lei che belva si sente? E' stata perciò la fatidica domanda che la Finta Fagnani, alias come suddetto Valentina Barbieri, ha posto a Marco Carrara Mi sento un'ape è stata la risposta del conduttore di Timeline, al quale la Finta Francesca Fagnani ha poi chiesto ovviamente perché ha scelto proprio un'ape come risposta L'ape è un insetto operaio, io lavoro molto perciò mi sento come un'ape è stata la motivazione fornita da Marco Carrara, al quale Valentina Barbieri, sempre perfettamente calata nei panni della conduttrice di Belve, ha risposto ironicamente, con la tipica cadenza romana della compagna di Enrico Mentana Ti piace fatica? Ti piace sudatte il lavoro? Bravo, bravo, e Marco ha confermato che effettivamente è così Ci sono altre cose scomode? Nella mia vita non ho tante cose scomode, sono un bravo ragazzo ha poi aggiunto scherzosamente Marco, come si vede nel videotratto dall'intervista che lui stesso ha condiviso sui suoi profili social, cliccare qui per vederlo La Finta Fagnani ha poi chiesto al conduttore di Timeline cosa ha fatto durante l'estate, e la risposta un po' evasiva di Marco Carrara è stata Sono andato in vacanza ovviamente, ma non posso dire con chi, dove e cosa ho fatto perché sono molto riservato Non sono l'ospite giusto per Belve. Subito il commento pungente della Finta Francesca Fagnani, che ha detto al suo ospite Mo fai pure quello timido? Quello che se vergogna? E Marco, ridendo, ha ribadito di non ritenersi l'ospite giusto per Belve Si è chiuso così il divertente siparietto, che Marco Carrara ha commentato sui social scrivendo Francesca Fagnani mi ha chiesto che Belva mi sento, o forse era Valentina Barbieri E per il video è stato subito boom di visualizzazione